quindi ragazzi a linate è caduto un albero in forlanini ci sono passato due minuti fa porca troia adesso è caduto in direzione linate guardate qua un albero puttana bastarda speriamo che ci sia sotto qualcuno le macchine guardate guardate ragazzi questa è viale forlanini praticamente quasi arrivati all'aeroporto palo della luce quasi a terra alberi a terra macchina sotto l'albero e siamo bloccati qua